Questo è un angolo, sì, luccicante, pieno di sogni, fiorito, intenso, passionale, perché la sposa alla fine è tutto questo. Ne parliamo con Katia Bosica che è una stilista per Katia B, appunto, by Benjavi Bridal Group. È uno spazio che sembra romantico al primo impatto, ma poi c'è il fuoco sotto. Sicuramente sì, l'ambiente quest'anno è quello dell'ambiente romantico, però gli abiti sono abiti abbastanza grintosi, soprattutto nei materiali. Quindi sono materiali nuovi, con pizzi più innovativi, poi essendo una stilista, l'abito che viene creato da me è un abito particolare. Nel senso che l'abito viene costruito sulla sposa, quindi un abito unico, dove la sposa ce l'avrà soltanto lei quel giorno, lo indosserà solo lei. E questo è uno dei motivi che vi permette di avere una clientela selezionata. Selezione che avete scelto di vivere anche qui in Abruzzo Sposi, voi non siete nuovi in questo salone espositivo. Avete scelto di tornare perché? Perché come fiera in Abruzzo mi sembra forse una delle poche fiere più selezionate, questo devo dire, dove veramente chi viene, viene perché è interessato. E quindi questo per me è indice di professionalità oggi. L'allestimento quest'anno dà più spazio, più respiro a voi che lavorate qui, lungo la parte espositiva, ma anche a chi vivrà i workshop, i trunk show, è la grande sfilata, eccetera, eccetera. L'area interattiva di questi spazi vi sono piaciuti? Decisamente sì, sì. Vedo molta professionalità. Poi quest'anno la scelta è stata, penso, migliore rispetto agli altri anni, quindi ancora più mirata. Attestato di soddisfazione che ci gratifica. Grazie a Katia, stilista per Bridal Group. Grazie di cuore.